Pace e bene cari amici, bentrovati! In questa trentunesima domenica meditiamo sul testo di Luca 19, 1-10, l'incontro di Gesù con Zaccheo. Abbiamo qui l'emblema della conversione, bellissimo, quindi cerchiamo di entrare così in semplicità in questo testo. Gesù è in cammino, passa nella città di Gerico, quando ecco un uomo di nome Zaccheo. Vediamo come viene descritto dal Vangelo. Anzitutto era capo dei pubblicani e ricco, era dunque il capo degli esattori delle tasse per conto dei romani, era quindi capo, era uno che aveva fatto carriera, era chissà, forse uno anche temuto, ed era ricco, quindi una persona che ha accumulato per sé, che ha tanti beni, quindi carriera, beni, ma cercava di vedere chi era Gesù. Quindi quest'uomo che materialmente sembra avere tutto, in realtà gli manca il tutto, gli manca Dio e desidera vedere Gesù. A volte il verbo vedere nei Vangeli indica anche il credere. Noi non sappiamo perché volesse vederlo, forse per curiosità, vuoi per un desiderio di salvezza, vuoi per quel vuoto che avvertiva dentro di sé, ma cercava di vedere chi era Gesù e ce la mette tutta per riuscire a vederlo. San Giovanni Paolo II diceva che questo cercava di vedere Gesù, è una frase molto importante che dobbiamo riferire a ciascuno di noi e chiederci, ma io voglio davvero vedere Cristo? Faccio di tutto per poterlo vedere? Ma voglio veramente? O forse piuttosto evito l'incontro con Lui? Preferisco forse di non vederlo e preferisco che Egli non mi veda? E se già lo vedo in qualche modo, non è che preferisco vederlo da lontano ma senza avvicinarmi troppo, non spingendomi davanti ai Suoi occhi per non scorgere troppo, per non dover accettare tutta la verità che è in Lui e che proviene da Lui? È una domanda seria, bella, cioè io davvero desidero Gesù, io posso dire che in questo momento della mia vita desidero al di sopra di tutto far la sua santa volontà, posso dire che sono disposto a seguirlo in tutto e per tutto, oppure lo seguo sì, ma non troppo, non si sa mai che possa chiederci qualcosa fuori dalle nostre aspettative. Zaccheo dunque cercava di vedere Gesù, ma, leggiamo ancora, non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura, quindi partiamo dal fatto c'era una ressa di persone, lui era piccoletto e non vedeva Gesù che passava, ma prendiamo anche un aspetto esistenziale. Zaccheo era piccolo di statura, cioè un uomo che non è cresciuto, è rimasto piccolo, è rimasto umanamente non maturo. Perché? Perché ha vissuto per sé, perché nel Vangelo viene descritto alla fine come un uomo solo, che ha tante cose ma non ha relazioni significative. Quest'uomo ricco, chissà temuto, che è senza Dio e che cerca Dio, è ostacolato dalla folla. La folla rappresenta nel Vangelo una categoria particolare, è quell'insieme di persone che non sono proprio discepoli, che così seguono alla larga Gesù, ma che in questo caso, per esempio, non sono di aiuto per chi vuol vedere Gesù. Vedete, ognuno di noi può diventare uno della folla, quando? Quando diventiamo cristiani all'acqua di rose, quando con le nostre parole e la nostra vita non siamo significativi, ma piuttosto annacquati e mondani, cioè in poche parole non aiutiamo gli altri a incontrarsi col Signore, non siamo in grado di intercettare la sette di Dio, di dare risposte sensate, di attrarre a Lui con la nostra vita. Basterebbe chiedersi così, in modo molto indicativo, nell'ultimo anno chi abbiamo aiutato nel cammino di fede, se e quante persone abbiamo aiutato a incontrare il Signore, se abbiamo riportato qualcuno in chiesa, se qualcuno lo abbiamo aiutato a confessarsi magari dopo tempo, o a riaccostarsi all'eucaristia, insomma, chiederci, ma ognuno di noi, ma io sto cercando di aiutare le persone a incontrare Gesù, o non sono forse come uno della folla che è un po' di ostacolo per chi soprattutto è un po' lontano? Zaccheo, pur di vedere Gesù, cosa fa? Sale addirittura su un sicomoro. È bellissimo pensare che non gli interessa nulla del giudizio delle altre persone, a Lui interessa e fa di tutto per vedere Gesù. La sorpresa dov'è? Che Gesù passando di lì alzò lo sguardo e gli disse Zaccheo scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua, bellissimo. Zaccheo che cerca Gesù si scopre cercato da Gesù, Zaccheo che vuol sapere chi è Gesù si sente conosciuto da Gesù e Gesù cerca proprio lui e vuole stare con lui, che tutti potremmo dire schifavano, allontanavano, consideravano perso. Zaccheo scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedete, è proprio così. Quando una persona nella vita fa esperienza del Signore risorto e lo accoglie nella sua vita e aderisce a lui credendo in lui, nasce e rinasce sempre la gioia. Quella gioia profonda che niente nessuno se non Dio ci può donare. Mentre Zaccheo esulta e accoglie Gesù, mentre Gesù entra più che volentieri nella vita di Zaccheo, gli altri mormorano. Ecco, fermi alle loro categorie di purità, ma come? Ma il Signore è entrato in casa di un peccatore. Sapete che ci sono persone, vi assicuro incontrate anche nelle missioni di strada, purtroppo sovente tra quelle che, lo dico simpaticamente, la domenica scaldano sempre le panche della chiesa, che se vedono entrare in chiesa, magari dopo tempo, una persona che notoriamente ha commesso errori e peccati magari di un certo peso, anziché gioire vedendo la potenziale conversione di quella persona, lanciano delle occhiate micidiali, sono di una freddezza glaciale, chissà che cosa hanno visto. Ecco, è l'errore di tutti questi che mormorano, anziché gioire davanti alla salvezza possibile di quest'uomo. Allora, abbiamo visto Zaccheo prima, centrato su di sé, ricco, al quale però manca qualcosa. Zaccheo, quando incontra Gesù, che è pieno di gioia, lo accoglie, aderisce a lui. E vediamo adesso i frutti dell'incontro con Gesù. Zaccheo, alzatosi, disse al Signore, ecco Signore, io do la metà di ciò che possiede ai poveri e se ho rubato qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Zaccheo, che accoglie il Signore, si rialza, è il verbo anche della risurrezione, risorge a vita nuova. E cosa accade? Qual è la novità meravigliosa? Che non vive più per sé stesso. Dona. Se prima si è fatto i soldi sul sangue dei poveri, ora dà la metà di tutti i suoi beni ai poveri e non solo. È pronto a restituire quattro volte tanto, quindi in maniera più che sovrabbondante, ciò che ha rubato. Vedete, da cosa si vede che Zaccheo ha incontrato il Signore? Dalla conversione proprio concreta e da come anche concretamente Zaccheo, vedete, non vive più per accumulare e tenere per sé, ma diventa capace di donare a occhi e cuore per gli altri. Ed è molto bello il fatto che prende consapevolezza del male commesso ed è pronto a risarcire. Questa dovrebbe essere un po' la dinamica e la grammatica di ogni incontro autentico con Dio. Cioè, quando io incontro davvero il Signore, che sia all'inizio della conversione o che sia anche in momenti puntuali, dopo che prego o dopo che mi vado a confessare, soprattutto quando io prendo consapevolezza del peccato, si vede che io incontro il Signore da che cosa? Dal fatto che cerco di riparare al male commesso. Gesù, concludendo, esulta pieno di gioia e dice oggi per questa casa è venuta la salvezza, il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questo è ciò che il Signore ha fatto con Zaccheo, è ciò che da millenni fa nella vita degli uomini e delle donne di ogni tempo, è ciò che ha fatto nella nostra vita, nella mia, forse anche nella tua, ci ha cercati, ci ha amati mentre eravamo perduti. Incontrando Lui abbiamo incontrato la salvezza. Che la gioia di sentirci amati e salvati e perdonati ci spinga a cercare tanti che in questo momento cercano la gioia, la pienezza, lontano da Dio, ma in vano perché come disse Sant'Agostino inquieto il nostro cuore finché non riposa in te. Buon cammino a tutti, Dio vi benedica, pace e bene.